Start, 2, 1, Booster Ignition and Liftoff! Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Game Play Ita. Oggi siamo su Tainted Grail The Fall of Avalon. Tainted Grail è un gioco da tavolo che io però non conosco molto bene. È un gioco fantasy da tavolo cooperativo di tutta una serie di giochi ambientato appunto in un universo dark fantasy. Questo è il gioco uscito già da un po' di tempo per Steam. Costa 28,99€ prezzo pieno, adesso in questo periodo qui 21€ qualcosa. È un gioco che purtroppo, e ve lo dico subito, non è in italiano. E magari per aiutare ad avere la community italiana una traduzione, mettetelo magari nella vostra lista dei preferiti. Così gli sviluppatori vedranno che l'abbiamo messo in tanti e ce lo tradurranno. Oppure magari qualche buona anima deciderà di tradurlo. Il gioco ricorda molto, moltissimo Skyrim. E mi hanno mandato questo gioco perché è uscita la versione 0.7 e hanno introdotto un sacco di roba. Il Qanact Rebellion è l'ultima parte che è stata aggiunta, siamo alla 0.7 quindi ci avviciniamo. Penso nel gioco di sei mesi ci avvicineremo alla 1.0 di questo gioco. Leggendo che nelle conversazioni dicevano traduzione in italiano, gli utenti l'hanno chiesta, ma se ne parlerà sicuramente al rilascio. Forse, ma non è detto. Il gioco si divide al momento tra il prologo, questo atto 1 e 2 e qui invece si parte direttamente con l'atto 2 che è stato aggiunto di recente. Quindi tecnicamente pensate che qua si parla di 10-20 ore con un personaggio di ventesimo livello, mentre le altre 10-20 ore anche in questa parte qui. Quindi, e il prologo invece si finisce in un'ora, quindi tenete conto che avete un euro all'ora più o meno a spendere. Perché 10-20 ore sono comunque 30-40 ore in totale e non è male. E non conoscendo nemmeno l'ambientazione, la lore, cercherò di capirci qualcosa in quello che dicono qua in inglese. Vi dicevo che il gioco ricorda molto Skyrim, Morrowind, Oblivion, perché comunque lo stile di combattimento strezza l'occhio ai giochi già visti di Bethesda. Andiamo a vedere, andiamo a vedere perché dagli screen comunque si vede che si può cavalcare, ci sono varie ambientazioni, ci sono i dialoghi, ci sono un sacco di cose e partiremo probabilmente anche in una prigione. La musica che sentirete qui è un po' diversa da quella del gioco, perché ho scelto di oscurare la musica protetta da copyright e la differenza c'è, perché la musica è veramente bella, quella protetta da copyright che non posso farvi sentire. E' iniziata l'età della conquista, usando questo tizio, usando il potere dei Meniere, insieme a Merlino. Ok, sì, la zona è quella, diciamo, l'ambientazione è più o meno quella sui, poi se qualcuno ne sa di più me lo dica nei commenti, ma è quella di Rear 2, insomma, quell'ambientazione di Avalon, alla fine è quella, Camelot è l'ambientazione quella. Il gioco da tavolo purtroppo non l'ho mai provato, ma ho visto delle immagini del gioco, della scatola del gioco soprattutto, e dico, cavolo, deve essere intrigante, visto anche il prezzo che ha quel gioco da tavolo. Va bene, e io direi che a questo punto possiamo anche saltare, tanto è iniziare dall'inizio. Ok, abbiamo il nostro personaggioino, possiamo fare uomo-donna, noi facciamo uomo, ah, qua possiamo ancora cambiare, uomo, lo facciamo normale, non ci continuiamo la testa. Poi lo facciamo un po' più, meno in carne, senza capelli, vediamo la barba com'è, meglio delle aspettative, devo dire, potremmo farlo troppo buonaccione così, potremmo farlo, ma no, sono tutti troppo buoni, facciamo questo. E poi alla fine il nome, che è Indie. L'ho scritto male, Indie, e poi facciamo difficoltà normale, sì. Se si vuole giocare con questo personaggio non potrei cambiarlo, yes, la grafica è praticamente quella. Sono io ancora, spero che questa volta coopererai senza bisogno di dovertelo ripetere. Beh, l'inizio è quello degli Elder Scrolls, almeno non lo ricordo molto. Da, vai, facciamo sta cosa senza che tu debba aver bisogno di qualcuno dall'alto, insomma, del piano di sopra, che ti dia la ripassata probabilmente. Che cosa facevi nella foresta quando ti hanno catturato gli scudi rossi? Io stavo cacciando. Ah, e vi cambia, non l'ho visto, mannaggia. Cacciando. Non ti avevo preso per un cacciatore. Allora, io uso il pelo per fare vestiti e aumento arceria e hand crafting, quindi crafting a mano. Per mangiare o per raw materials? No, io faccio i vestiti. La cosa che mi dà fastidio non è tanto l'inglese in sé, ma il fatto che queste frasi sono molto veloci. Ed è questo che mi... non mi spinge molto ad andare avanti a giocare. Ok, questo è morto malissimo. Finalmente ho sempre trovato... Eh, i termini non sono proprio faciliti. Stai marciando in questa dannata cella? Va bene, andiamo avanti. Mi fai uscire? So che... lo so, lo so che hai milioni di domande che si formano nella tua testa, ma dovrai aspettare. Una di queste chiavi dovrebbe aprire la tua cella. Ti scorto davanti, ti scorto fuori, tu intanto esci. Ok, abbiamo aperto e ci stiamo liberando. Abbiamo sbloccato nei nuovi vestiti. Praticamente questo è un overview dei quick slot. È praticamente quello, cioè non ci sono... Mano sinistra, mano destra, abbiamo l'armatura. Che tra l'altro non abbiamo niente. Fammi vedere se c'è qualcosa. Bag. Ah no. Vabbè, qua abbiamo lo status con le nostre abilità, le nostre caratteristiche. Abbiamo l'inventario, le quest attive e le statistiche. Quindi con tutte le varie spiegazioni delle varie caratteristiche. Qua abbiamo invece... L'estatta. Di bonus del crafting, del movimento, del danno critico, dell'armatura e della vita. Ok. Hanno sbloccato solo nuove ricette, ok. E posso prendere tutto da questa guardia morta qui. Sì, scompare esattamente come Skyrim. Ora, io mi domando, ma questo qui posso indossarlo? Sì, quindi adesso qui dovrei averli indossati. Ma questo qua, vuoi vedere che è solo un'estetica? Perché, scusami... Sto buttando la roba. Ah, infatti, non... Ah, e keep cliccando. Ok. Adesso l'ho equipaggiato. Ok, col tasto destro si butta la roba. Che scelta strana. Comunque, la ghicchia un po', in realtà. Qua facciamo dash. Ah, così spingiamo. Ah, l'ho solo spinto per terra. Non ho delle armi. Non ho neanche il lockpick. Eh, eh, fuggirò. Ahia! Non ho armi. È fuggito sto qui. Dalla sala della tortura. Amputation knife. Vediamo se posso equipaggiarlo. Yes! Ok. Adesso vediamo anche il tipo di combattimento. Possiamo leggere i documenti. Sì, probabilmente ho pompato troppo i... Ah, ma mia, ma è coriaceo da far paura sto qua. Finito la stamina. Tra l'altro, da quello che ho visto, dovrebbero finire la stamina anche loro, anche i nemici. E praticamente è già finito. Non è ben già finito. Bisogna ricominciare da capo, perché non l'ho salvato. Mannaggia me. Vabbè, rifacciamolo velocemente, dai, risaltiamo tutto. Ok, ha ricominciato. Adesso io luto subito da sto tizio tutta la roba che probabilmente mi dà già un'arma che prima mi ero perso. Quindi, vediamo un attimo cos'ho. Metto questo, 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 questo. Eh, Brockenaro. Eh, no. Eh, Wooden Club. Ok, anche questi. Ok, adesso sono ben vestito e ho anche una mazza. Vediamo, adesso, vediamo se riesco, sì, a salvare. Così magari evitiamo la brutta fine di prima. Lutiamo anche questo e andiamo avanti. Faccio un sacco di roba da apriere. Questo qua può essere veramente un gioco bellissimo. Ah, mamma mia, ma salta sto qua. Eh, sì, adesso va giù. Eccolo, un'arma decente. Va giù. Ok. Però, secondo me, può valerne davvero, davvero la pena quando esce. Non abbiamo un lockpick, però possiamo prendere forse il coltello che c'era qua prima. L'autopsia, il report. Vediamo se c'è qualcosa... Sì, ci sono un po' di cose. Graficamente è molto carina. Potrebbe essere tranquillamente una mod di Skyrim, però... Abbiamo un bigliettino qui. Tra l'altro... Ok. C'è tanto da leggere, comunque. Però abbiamo imparato le pozioni di cura. Qua intanto il nostro amico si è fatto strada. Abbiamo preso le chiavi del laboratorio. E continuiamo. Può essere davvero interessante, se comunque c'è un bel mondo, la lore non credo manchi in questo gioco. Posso entrare qua, prendere dei funghi e andare. Vediamo un po' l'inventario. Ora si riempie così. Non so se ci sia, in realtà, del peso. Però qua è una zona nascosta. Dove probabilmente... Mi piace perché già in questo inizio ci sono dei segreti. Ma non è qui che voglio andare. Più che altro perché mi sembra che ci sia un po' troppa gente lì. È un gioco che, secondo me, una volta uscito in 1.0, può arrivare tranquillamente ai 49 euro. Ah, è lui. Ok. Devi ammettere che i preti rossi sono abbastanza pieni di risorse. Chi sei tu? Ok. Come avrai notato, siamo dentro questo posto qui. Quando siamo fuori, parliamo. Ok, questo posto conduce alla spiaggia. Andiamo. Anche un non so che di... di Tiff. Sì, poi tenete conto che il micro lag lo fa perché ho il monitor impostato su un livello assurdo di FPS. Allora, praticamente questo... Devo trovare una pozione. Questa. No, aumenta... La bevo. Aumenta la forza. Mi faccio più danno, sto qua. Che è anche la spada, tra l'altro. Io fuggo perché non me la sento. Mi sto inseguendo! Scendo giù. Ok, creato il ponte. No. Evidentemente no. Non si va da lì. Ah, ancora lì. non so dove devo andare ma continuo a scendere. Vediamo cosa trovo. No, anche perché ho finito la vita. Quindi non so se ho un modo di riposarmi. Ma qua sono veramente troppo... Uh! Sono morto. Di nuovo. Ma la cosa che io mi chiedo è come ci si cura? Provo a giocarmi meglio la carta del... Ok. Sì, vabbè. Va bene. Niente, provo a andare di corsa. Adesso voglio vedere che cosa c'è là in fondo. Scusi, perdoni. io prendo tutto arrivo qui ma non c'è niente qua che posso prendere. Lui prende la mira vado indietro io lo colpisco lui prende nuovamente la mira lo ricolpisco con pazienza salto indietro lo colpisco senza avere fretta salto indietro lui mi manca recupero stamina faccio il salto indietro mi colpisce in modo un po' svogliato salto indietro ok senza fretta vedete che c'è anche la stamina lui che sta calando vistosamente con la vita infatti attacca molto in modo molto più stanco di prima aspetta un secondo ma se io adesso mi vestissi da parete red parista red parista red parista red parista sono praticamente vestito da parete rosso ci sono anche degli stivali di parete rosso no credo siamo a posto magari equipaggio la spada non ho cure questo per la cura dai fammene mangiare un po' di vita ok qua non c'è niente touch ok e ce ne andiamo ok ok e siamo in questo mondo qua si va bene fammi salvare perché ah no si può va bene si è una lingua incomprensibile questo dovrebbe funzionare spero no si va avanti di qua si ho aspettato lungo che qualcuno mi trovasse sei qui per aiutarmi a lasciare questo posto che è un prigioniero potrei esserlo non lo so sono stato mandato qui per una ragione o per un incidente come te perché vuoi andartene sembra un'eternità sono stato qui per quello che sembra un'eternità mi sento sempre stanco chi sei cos'è questo posto non lo so perché sei qui sono stato trasportato da una statua un menhir va bene dai vi salto tutti i convenevoli tecnicamente temporal old unlocked che non so cosa sia però magari ci non possiamo andare sì adesso sì un po' vado che bello è skincible è skincible è skincible ok e mi fa fare il combat adesso bella la parata bene temporal hold ti permette di rallentare il tempo usalo quando vuoi per attaccare e fuggire ma ricorda che una volta che l'hai usato avrai bisogno di ricaricarlo ok temporal hold ah figo la max pain è molto bello cioè il combat è meglio di skyrim non ci sono banane solo che sono tipo morto male malissimo e vorrei capire adesso come uscire di qua mi dispiace non ho chiesto il tuo permesso per fare questo ma spero che ne valga la pena come promesso cosa hai fatto ho trovato un po' di vuotezza nel tuo cuore un posto dove potrei stare per un po' cosa vuoi da me te l'ho già detto ho bisogno di riuscire questo posto va bene va bene ce ne andiamo I will va bene ok I will to win andiamo andiamo ricorda molto anche ricorda molto anche quell'altro gioco dark messiah of might and magic mi ricorda molto quello che tra l'altro uscì forse nel 2005 2006 è bellissimo ok ma poi che spettacolo un po' eldenringhiano con queste con questa enorme macina sorta di macina qualche girata da questi mostri ma noi continuiamo fetti di luce carini e il gioco va sicuramente approfondito però potrebbe essere utile questo video per pochi di voi probabilmente ma per saperne di più riguardo questo titolo attacchi sono morto sono morto sono morto sono morto chissà da dove hai parto adesso spero abbia fatto un autosave qua davanti spero sì infatti dovrebbe speriamo di farci che poi quella dovrebbe essere l'uscita dal nostro prologo e l'inizio dell'avventura proprio come primo capitolo allora diciamo che si capisce si capisce abbastanza bene per quanto i documenti bisogna perderci tempo ad andare a leggerli ovviamente un gioco del genere magari portato in live o giocato con un po' di stanchezza o con la fretta di e soprattutto nei dialoghi quelli quelli lunghi e che vanno via le fasi scompaiono in fretta non è proprio il massimo diciamo che è godibile ma molto più godibile in italiano senza ombra di dubbio ma io posso eventualmente fuggire ma che cacchio fai ma che posso andarmene posso andarmene se io corrressi via scusate qua sopra cosa c'è niente ah c'è sì una scritta di di lore anche di là ne vedo una scusami ma io non posso mettere in pausa questo qui mi attacca quindi lui mi farà la mossa scusa se io me ne vado oh infatti me ne vado e me ne vado senza stare lì a perdermi probabilmente magari mi dava qualche oggetto interessante però finalmente arriviamo nel mondo che bello finalmente siamo qui nel mondo e là in fondo c'è qualcuno che bello è il mio amico vabbè vi salto ogni tipo di di conversazione che andiamo avanti i should set up camp ok quindi praticamente possiamo andare a piazzare delle cose interessanti praticamente andando qua possiamo andare a scusate andare a piazzare il bonfire quindi diventa una sorta di non dico survival però un po' di interazione ti permette di cucinare riposare e livellare tuttavia il bonfire è anche alimentato dagli material cobweb alimentando ti proteggerà dal wildness di notte è figo qua tremendamente figo due punti disponibili quindi adesso potremo vedete che abbiamo anche il costo e diventa un Elden Ring qui praticamente un Dark Souls e qua possiamo livellare le varie nostre statistiche da perception spirituality dexterity strength ed endurance è molto molto interessante perché qua andiamo ad aumentare le statistiche come detto oltre che le skill è molto interessante poi possiamo anche cucinare e possiamo anche uscire possiamo riutilizzarlo sì molto bello molto 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 bello e adesso vogliono uccidere a tu hanno in mano vogliono fare qualcosa ok ok la grande fuga I can rest on the boat ok quindi posso andare a Davalon ok così almeno vediamo come va a finire questa cosa vediamo caricamento un po' lungo ok siamo finalmente usciti dovrebbe cominciare l'atto 1 adesso il capitolo 1 è scompletata ok siamo arrivati non so se effettivamente sarà proprio open open ma direi di sì vista anche la mappa e beh e beh ci tenevo ad arrivare fino a qui perché comunque un po' di roba c'è e sarà sicuramente un gioco da spolpare qualora arrivasse in italiano quindi vi dico scrivete sulle discussioni Steam se c'è l'italiano mettete P1 mettete soprattutto il gioco nella lista dei preferiti insomma dei desideri perché il gioco è tremendamente figo hanno aggiunto dicevo anche la mappa perché non ho un'arma ok il mangiatore di corpi questo e il gioco è veramente bello ha del potenziale senz'altro quindi eh sì qua questo mangia la menti un manuflaia qualcosa del genere e c'è un sacco di roba un sacco di roba da lutare il mondo è stupendo veramente bello quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo e ricordatevi che è in early access e con questo vi saluto e vi rimando a un prossimo video game play alla prossima e ciao ciao ciao